Dal 2001, la Free Software Foundation Europe offre alle persone i mezzi per usare la tecnologia in modo autodeterminato e in totale libertà. All'inizio, solo poche persone ne erano interessate. Oggi invece è una questione diffusa, poiché la digitalizzazione penetra sempre più nella vita delle persone, nelle aziende, nelle organizzazioni e nelle pubbliche amministrazioni. Influisce sempre di più sulla nostra sfera personale e sulla società nel suo complesso. Anche la potenza del software aumenta. I dati personali possono essere violati. Il software è in grado di determinare cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Possiamo perdere la nostra libertà o addirittura le nostre vite. Per questo sosteniamo la necessità di limitare il potere del software proprietario, distribuendo invece ampiamente potere e accesso mediante il software libero, anche noto come software open source. Molti conoscono il software libero sotto forma di programmi e app utili, ma l'idea alla base è ben più ampia e ha resistito negli anni. Ha permesso la creazione di sistemi che sono la colonna portante del nostro mondo digitale. La differenza tra software libero e proprietario è che il software libero ci garantisce sempre quattro diritti. Chiunque può usarlo liberamente, studiarlo, condividerlo e migliorare il software stesso. Se il software è sviluppato con una licenza libera, allora chiunque può usarlo senza restrizioni, in qualsiasi momento e ovunque. Poiché il codice sorgente può essere letto da tutti, si crea trasparenza e si può andare verso una maggiore sicurezza. Le persone possono collaborare attraverso le frontiere su problemi che affliggono l'umanità, possono condividere il software, discuterne e migliorarlo insieme. Questa idea esiste ormai da diversi decenni e il movimento ha continuato a crescere e ad evolversi. Le persone che usano il software libero stanno aumentando e sono sempre più eterogenee. E per rendere il processo di formazione della tecnologia più inclusivo, è necessario rafforzare il rispetto reciproco. Vogliamo che il software libero consenta a tutte le persone del mondo di progettare insieme la tecnologia in un ambiente autodeterminato e che valorizzi la partecipazione democratica nell'era digitale. Allo stesso tempo, in qualità di movimento, non dobbiamo perdere di vista i nostri valori fondamentali, usare, studiare, condividere, migliorare per tutti. A proposito, anche questo video è stato creato con il software libero.